Il PDL è a fronte della nuova società? Guardi, essendo un momento di tensione, poi sorgono le più varie iniziative. Comunque, come ha chiarito Alfano, l'impegno è di far sì che tutti i gruppi, tutto il complesso dei gruppi parlamentari, al Senato e alla Camera, votino la fiducia nella consapevolezza che questo Governo non è il massimo possibile, ma che però l'alternativa sarebbe una crisi politica che accentuerebbe le difficoltà economiche e sociali del Paese. Facendo questa scelta noi pensiamo agli imprenditori, ai lavoratori, agli artigiani, ai commercianti, a tutte quelle categorie che ci hanno invitato a rimanere al Governo per far sì che ci sia un impegno comune per la ripresa e per la crescita.